Io ce l'ho profumato, l'alito, ce l'ho profumato con mental, perché mental profuma l'alito, e che avevi capito? No, stasera niente partita, stasera voglie, 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 è il nuovo gioco per coppie che si fa col videoregistratore, c'è la videocassetta? Sì, con tutte le penitenze, tre foglie, sei voglia, guardiamo il video, uno, casella slip, paghi pegno, diciotto, c'è la foglia, c'è la voglia, vediamo che succede, wow, il gioco continua.